Ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale e oggi siamo a Fettuale dell'Oriente Grazie a tutti Guarda che ci sono i trattamenti passanti, vanno bene per la mia mamma Guarda che ci sono i trattamenti passanti, vanno bene per la mia mamma Guarda che ci sono i trattamenti passanti, vanno bene per la mia mamma Guarda che ci sono i trattamenti passanti, vanno bene per la mia mamma Guarda che ci sono i trattamenti passanti, vanno bene per la mia mamma che relax chissà cosa c'è nel mio futuro come faccio la palla la palla il 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti